Cosa? Perché mi hai sposato? Ero innamorata di te. Ero innamorato anch'io, ma perché mi hai sposato? Eri bello, eri abile, eri... eri spiritoso. Ed eri un bravo amante. Molto bravo. Eccoli, 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 venite, 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 venite. Avanti, 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 su, 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 entrate, fatemi felice, così. Così, così. Sì! Salve! Salve. Salve, come state? Molto bene, grazie. Cercava qualcosa in particolare? No. 1800 dollari. Compra una cintura. Fammi vedere. Va bene. Vuole solo guardare? No, vuole comprare. Voglio guardare. Lo decido da sola se voglio comprare o no, non permetto a nessuno di dirmi cosa devo fare. Andate via, è chiuso. Non siamo aperti perché questo non è un negozio, è il set di un film, facciamo i sopralluoghi per un film. E questa non è la vita reale, voglio dire, non mi serve gente così, non c'è niente in vendita per voi, perciò andate via. Andiamo. Cos'è uno show della tv? No, fuori, andate via. Andate via. Ma questo non è un negozio vero. No, e tu non sei una cliente. Addio. Ma è impazzito e falliremo. È impazzito e falliremo. È impazzito e falliremo. È impazzito e falliremo. Pazzo, sto vendendo una cosa, sto vendendo una cosa, ho venduto una cosa, la vendo. Con tanti o carta? Con tanti. Grazie. Peter? Cosa? Incarti tu. Come hai fatto? Ha fatto un buon acquisto. A sua moglie piacera. Speriamo. 650 dollari. Due camicie e una cintura, non è male. Che fai stasera? Leggerò. E tu cosa fai? Non lo so. Sono stanco. Non puoi venire da me. Non te l'ho mica chiesto. In caso ci stessi pensando. Non lo so stessi pensando.